C'è grande contentezza perché, ripeto, a parte l'obiettivo di per sé straordinario di arrivare a una semifinale di un viareggio, ma è il modo in cui è stata raggiunta che dà una soddisfazione enorme perché abbiamo avuto una crescita impressionante di tutti i nostri ragazzi e poi abbiamo giocato un calcio veramente bello, anche da vedere, non abbiamo mai rischiato nulla nemmeno oggi, quindi veramente un grande passo di maturità di tutti i ragazzi e dei complimenti al mister e allo staff che stanno lavorando in maniera incredibile. Sì, una gestione perfetta, interpretazione anche perfetta, poi abbiamo dei giocatori bravi che hanno dei colpi importanti e quando riescono a metterli in evidenza o a innescarli diventiamo una squadra molto pericolosa. Oggi ha funzionato tutto per il meglio e quindi non posso che essere molto molto soddisfatto. Stiamo facendo una fase difensiva straordinaria, questo vuol dire che la squadra difende in 11, lo dicevo prima, il sacrificio che stanno facendo è enorme e poi devo dire che 5 partite contro perlomeno Napoli, Anderlecht, Empoli e Verona sono squadre di livello veramente importante, quindi i numeri sono significativi e sono molto contento. Io l'ho detto ai ragazzi, godetevi questa avventura perché state facendo qualcosa di spettacolare e quando, ripeto, la determinazione, il sacrificio si mettono insieme alla tecnica che sicuramente non ci manca e i valori tecnici che sono per noi importanti, nessun traguardo può essere non raggiunto, quindi dobbiamo essere molto sereni, siamo l'unica squadra di B ad essere arrivata a una semifinale ed è qualcosa di bello e sono contento per la società perché credo che il presidente e il direttore facciano sacrifici importanti per il settore giovanile e quindi è una bella soddisfazione anche per loro, mi auguro.